Ciao Simone, è arrivata un'altra sconfitta casalinga, cominciano a essere tante perché sono sei fino ad oggi. Cambia qualcosa tra trasferta in casa? Sentite di più il peso di giocare davanti al proprio pubblico, la responsabilità? Non lo so. No, penso no perché normalmente siamo forti qui a casa, sentiamo bene qui ma dobbiamo fare di più. Abbiamo visto oggi, sì, non lo so. Non riesci neanche a spiegarti il perché questa squadra non riesce a fare il salto di qualità. Vince una partita, poi quella dopo, a parte una volta inizio campionato, c'è una sconfitta o un pareggio. Cosa succede? È difficile dire ma dobbiamo cambiare qualcosa nella testa perché siamo forti. Abbiamo visto anche contro Frosinone. sì, è difficile ma anche oggi abbiamo fatto tante volte buono. Il gol non è arrivato ma sì, dobbiamo continuare. L'ultima da parte mia, il mister ormai ci ha abituato a cambiare un po' di posizione. Anche tu stesso hai giocato in diversi ruoli quest'anno. Oggi abbiamo visto Juric davanti alla difesa. Questo vi fa piacere come giocatori o vi può disorientare perché siete sempre, siete spesso, non sempre in una posizione diversa? Io faccio questo che il mister vuole. Sì, io sono professionista, non è la mia decisione. Io faccio questo che il mister vuole e faccio il mio best. Partiamo da... visto che le sconfitte in casa si ripetono, ti sarai dato una motivazione. cosa pensi? La motivazione? Penso no, ma è difficile. Come ho detto, penso che dobbiamo cambiare qualcosa nella testa perché sei volte troppo. Abbiamo la qualità, siamo forti. Una squadra come noi non è... questo non... devo succedere. Ma questa squadra secondo te manca di qualcosa? Oppure è solo una questione di non avere un certo tipo di applicazione in certi momenti della partita? No, penso no. Qualcosa... non lo so, è difficile. Abbiamo perso a casa sei volte, non lo so. Penso qualcosa manca. Ma noi lavoriamo ogni giorno per vincere anche queste partite contro le squadre che sono più alti di noi nella classifica. Sì, continuiamo. Sì, però finora era venuto il contrario. Proprio contro le squadre più alte in classifica avevate fatto bene. Oggi invece è venuto esattamente l'opposto. Ma chiudo con una domanda. Noi ormai due anni e passa che ti vediamo giocare. Qual è il ruolo che preferisci? Perché una volta giochi interno, una volta giochi mediano, una volta giochi davanti alla porta, alla difesa. Se tu fossi l'allenatore, dove ti metteresti in campo per rendere al meglio? Io mi sento bene nel mediano, davanti alla difesa. Mi piacciono questi, ma come ho detto io faccio questo che il mister vuole. Sì, non è la mia decisione. Grazie.